ciao oggi faremo un video bellissimo vi faremo vedere tutti i passaggi per imparare la rovesciata indietro partiamo da sdraiate la rovesciata indietro me la chiedete in tantissime ragazze allora da sdraiate aspetta miglia piego le gambe al massimo mani alle orecchie letizia cosa continui? brazzo alle orecchie vai ponte brava quando fate il ponte cercate di spingere bene le spalle oltre le mani quindi avvicina un pochino di più le gambe e molleggiamo bravissima così non forziamo sulla schiera ma sulle spalle piedi uniti gambe tese scendo una volta che siete capaci di fare bene il ponte passiamo all'elemento successivo trovate di qualcosa di alto come questi materassi vedete braccia le orecchie e vado in ponte esatto brava ecco aspetta aspetta letti divarica un pochino le gambe ok bacino che spinge avanti e poso le mani benissimo puoi anche non tornare in alto eh da lì ti sdrai prova una volta a sdraiarti dai ok passaggio successivo ah me lo fai vedere tu o no lo fa vedere ancora letizia si si poi lei fa l'altro abbassiamo l'ostacolo dietro vai letizia tu si si tu no no lo fai tu dai braccia in alto gambe leggermente divaricate all'inizio e scendo e vado in ponte benissimo vedete quando scende lei porta il bacino avanti per andare a posare le mani e poi vi posizionate in ponte ancora una volta brava e stop dopo aver fatto questi passaggi ovviamente non è immediato dovete ripetere le cose tante volte giusto amelia dai in piedi gambe leggermente divaricate e vado in ponte brava no no amelia questo è un passaggio successivo ok ponte piano piano scendo e voilà brava e mi alzo in piedi ok dopo aver fatto questo che abbiamo fatto dall'alto come si scende vediamo come dal basso si sale in verticale quindi la seconda parte è la rovesciata ok va bene sempre in alto così quindi un ostacolo altissimo mi sdraio sopra accompagno le mani a terra benissimo a questo punto faccio il ponte sollevo una gamba e vado di là brava ancora una volta facciamolo vedere brava ponte e poi rovesciata cosa fondamentale ovviamente prima di imparare la rovesciata bisogna saper stare in verticale quindi almeno una verticale o verticale contro un muro dovete essere capace di farle ok va bene dopo questo possiamo abbassare poi noi adesso per farvelo vedere velocemente vedete che togliamo 40 centimetri alla volta ma voi potete tranquillamente abbassarlo piano piano quindi si da sopra ponte adesso fermati un attimo in ponte letì brava piega bene una gamba no l'altra piega sotto l'altra ok per spingere e spingo benissimo ancora una volta no non così ovviamente andare in verticale ma mi sdraio ponte brava piega bene sotto la gamba e poi rovesciata benissimo va bene facciamolo da terra piega bene la gamba sotto brava solleva l'altra adesso quella gamba sotto spinge tanto per portare il peso del corpo dalla verticale all'arrivo rifarne ancora uno guarda bene le mani in verticale guarda le mani in verticale e arrivo benissimo benissimo adesso da in piedi scendo in piedi scendo in piedi scendo in ponte sollevo la gamba e spingo brava ancora una volta inizialmente divaricate un po' le gambe che è più semplice bacino che spinge avanti sollevo la gamba e spingo ok fai un ponte per favore Amelia allora inizialmente potete aiutarvi con una gamba piegata tesa quella lì e adesso quella gamba lì frusta tanto e quella gamba sotto spinge quindi vi aiutate sia con la gamba che frusta che sia con la gamba che spinge ok va bene se ci siamo quasi abbiamo fatto quasi la rovesciata indietro ultimo passaggio sei capace di fare l'assistenza Amelia e la Letizia? allora Letizia gamba in alto ti fermi in ponte brava e poi rovesciata benissimo mi raccomando questi passaggi se potete fateli con l'assistenza ok ancora una volta ma tienila però eh brava e rovesciata benissimo ok e adesso siamo pronte per fare la rovesciata indietro completa sarebbe meglio prima con l'assistenza metti una mano sulla schiena e una mano sulla gamba così vai se è un po' della parte sbagliata Amelia ma fa niente perché se no non riesco a vederti giustamente rovesciata indietro completa da sola perfetto va bene speriamo che possa aiutarvi questo video tutorial per su come fare la rovesciata indietro questi sono alcuni dei passaggi ce ne sarebbero altri magari faremo un altro video da un'altra volta con degli altri passaggi però già questi se li fate 100 milioni di volte riuscirete a farla va bene? diteglielo anche voi che devono farlo tante volte ogni passaggio va fatto tante volte va bene speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri nuovi video ciao ciao